Allora benvenuti, eccoci alla seconda parte dove descrivo alcuni script utili che si possono usare per fare delle interazioni in musei virtuali su Second Life o anche su OpenSim Per accedere a questo tipo di script basta andare qui su Solaris Island, qui dove c'è il gruppo dei volontari di mentori italiani di Ali e qui trovate il palchetto dove faccio le mie lezioncine e qui vedete che ci sono due pannelli Allora cliccando sul pannello qui si hanno gli script della prima lezione e cliccando qua abbiamo gli script della seconda lezione Virtual Museum Skit numero 2 Quindi semplicemente andiamo a vederle a questo punto nelle recenti e nell'inventory abbiamo questa cartella nuova e in mezzo a questa cartella abbiamo anche una note card che ci aiuta a capire che script abbiamo Qui di dentro abbiamo, vedete, uno script che è il primo script che andiamo a vedere che è l'llsit underscore chiocciola Allora, l'underscore chiocciola significa quello che più o meno avevamo prima cioè che si può far comparire un messaggio sopra sulla base della descrizione Comunque prendiamo il sit, quindi questo qua è il sit, lo rezziamo e questo è un script che vedete che è scritto click to sit simple Ora, cosa ci si è scritto esattamente? Diamo un giorno, ok? Come fare a cambiare questa script? L'abbiamo spiegato la volta scorsa, basta cambiare nel generale questa scritta qua Vedete che qui c'è all'inizio click to sit simple Noi possiamo metterci invece un'altra cosa, quindi possiamo cliccare per sederti E poi mettiamo un underscore trattino basso per dire by salazar Ok, a questo punto abbiamo spiegato l'altra volta che potevamo semplicemente fare il reset di questo oggetto, di questo script LLSit, in realtà è questo LLSit text qua Quindi noi facciamo il reset degli script e vedete che abbiamo, che la scrittura che c'è lì sotto viene usata per segnalare qualsiasi scritto In realtà abbiamo LLSit qua e qui abbiamo underscore chiocciola perché lui prende una parte di questa cosa che abbiamo scritto In particolare prende, vedete che qui in fondo ci sono due dati, in fondo 002 e 04050 Allora queste sono la posizione in cui l'avatar si siederà e l'angolo con cui si ruota Quindi se noi adesso per dire su questo script facciamo il sit oppure anche su questo oggetto vedete che compare il simbolo della seggioletta Quindi clicchiamo semplicemente il nostro oggetto e ci sediamo e vedete che mi sono seduto a 45 gradi sopra questo oggetto In realtà per farmi sedere meglio dovrei cambiare, allora innanzitutto mi rialzo, eccoci E poi andiamo su questo oggetto, sulle proprietà e cambiamo il posizione Non a 2 metri di altezza, ma lo mettiamo soltanto a 0.3, quindi 30 cm sopra e mettiamo una rotazione Anziché 0, 45, 0 mettiamo 0, 0, 0, quindi rotazione 0 e quindi a questo punto lui dovrebbe leggerlo Ricordiamo che per farglielo leggere dobbiamo andare nel contenuto e nell'll sit questo Oppure anche da qua facciamo reset script, se no facciamo l l set di questo signore E facciamo semplicemente il reset Quindi facendo reset lui si legge praticamente la descrizione Questo vuol dire che se io adesso vado a sedermi su questo oggetto vedete che mi siedo esattamente sopra l'oggetto Quindi vedete che sono troppo basso per modificare la mia altezza Basta che vada di nuovo, allora qui innanzitutto mi alzo E poi vado su il tasto destro di questo oggetto Andiamo su questa descrizione Andiamo in fondo, ci alziamo, quindi 30 cm non andavano bene Facciamo 50 cm E poi possiamo anche farlo ruotare lungo l'asse Z Quindi lungo l'asse Z lo facciamo meno 90 Perché mi ho visto che mi sono seduto verso sinistra Ma io voglio ad esempio farmi sedere lungo questa direzione qua Quindi nel momento in cui a questo punto gli faccio il reset degli script Particolari di questo Reset E poi provo nuovamente a sedermi Vedete che mi sono alzato di 20 cm E mi sono girato di 90 gradi In quella direzione Quindi vedete che modificando questi parametri Io riesco a fare uno script di seduta Ora, a cosa serve questo script di seduta? E presto detto serve per far sedere la gente su delle sedie E fatto in questo modo si usa soltanto un prim Mentre invece gli script di seduta normali Come vedremo fra poco Usano almeno due prim Perché usano una sferella per posizionare meglio Perché vedete che adesso noi abbiamo dovuto modificare I parametri Cosa che magari può essere un po' complicato per alcuni Quindi andiamo a prendere lo script successivo Vedete che qua abbiamo la documentazione di questo script LLSit E dove c'è specificato questo discorso 002 045 0 Quindi sono praticamente l'altezza sulla z Piuttosto se volete farlo spostare sulla linea x e y Comunque sperimentate voi E l'angolazione 45 fa piegare in avanti L'angolasse x E via discorrendo Prendiamo invece questa disposable mia Allora questa Quindi torniamo sul nostro oggetto E abbiamo questo sit Chiamiamolo advanced Perché advanced? Perché è un pochino più Evoluto tra virgolette Nel senso che lo script In realtà è presente dentro Questo è un oggetto che è composto da due elementi Quindi usa due prima Quindi costa di più sulla terra Ma il vantaggio è che se io mi siedo Quindi supponiamo di mettere in modifica Edit linked della mia pallina Ok questa E poi faccio al solito la seduta Vedete che mi sto sedendo Ora visto che ho evidenziato la pallina Quando prendo control Posso modificare Potrei modificare Potrei modificare l'altezza della pallina E la direzione di seduta Ok in realtà è un problema solo di viewer Una volta lo seguivo Di viewer Adesso no Però vedete che quando Poi mi risiedo Vedete che Abbiamo esattamente La cosa giusta Quindi in funzione di come Vogliamo fare Dobbiamo modificare le posizioni Quindi andiamo in object qua E qui abbiamo La rotazione E qui possiamo anche Rimetterla Più o meno Potremmo mettere La rotazione 0 E avendo la rotazione 0 A questo punto Se mi siedo sopra questo Ah si scusate Ha fatto la rotazione 0 Di questo oggetto Ok la rimettiamo a posto Dobbiamo Edit linked Dobbiamo mettere la rotazione Solo di questo oggetto Quindi facciamo 0 E 0 E così vedete che si gira Soltanto questa pallina A questo punto Quando mi siedo su questa pallina Vedete che la rotazione È quella 0 Sulla pallina Notate che lo script Comunque è fatto In modo tale Che quando ci si siede La pallina scompare Quindi questo È diciamo Un'evoluzione Con qualche Primo in più Del SIP di base Che è questo Se è possibile Se riuscite È meglio usare questo Proprio per risparmiare Primo E avere anche uno script Più semplice Che pesa meno Sulla SIM Allora andiamo avanti Sui nostri scriptini Abbiamo visto quindi Il sit Adesso Passo successivo A vedere come Uno sit Possa essere usato Per fare Fondamentalmente Anche un teleport No? Quindi cosa facciamo Prendiamo Il sit teleport Questo signore Eccolo E vedete Che questo È uno script Che cliccato Porta su un punto In particolare Quindi vediamo un po' Dovreve portarmi Praticamente un po' Più indietro In questa direzione Quindi fa un teleport Come fa a fare il teleport? Lo clicco E vedete che Mi ha in realtà Messo sotto terra Addirittura Facciamo stop flying E dobbiamo sederci meglio Ok Ah questo qui è lo skateboard Che Questo è interessante Scriptino Anche questo Ma noi adesso Facciamo Quindi anche qua Stesso discorso di prima Se vogliamo essere teleportati A un punto opportuno Ad esempio Noi vogliamo Portarci Teleportarci Per dire Vi metto qua Mi vado a vedere Le mie coordinate Le mie coordinate Le vedete qua sopra 17 19 23 Ok Quindi prendo Questo script Di teleport Che poi Al fine vediamo Che è un sipt 17 19 23 E queste coordinate Le infilo In fondo 17 19 23 17 19 23 Ok Dopodiché Faccio come sempre Un reset Dello script Questo Perché ho cambiato Il Il punto di teleport Quindi questo vale Anche se Il posto viene Poi A questo punto Nel momento in cui Mi siedo su questo oggetto Guardate Vedete che compare La La seggioletta Mi clicco Vedete che lui mi sposta Esattamente in quel punto E con la rotazione Fatta in quel modo lì Quindi se io voglio Una rotazione diversa Ad esempio qua Gli posso cambiare La descrizione qua Invece di mettergli 0090 Gli metto Ad esempio 00180 Facciamo Reset Di nuovo E poi Se Clicchiamo qua Vedete che sono Mi siedo E Sono direzionato Leggermente diverso Vedete che lui Fondamentalmente Quello che fa E di far sedere L'avatar Nella posizione X E poi lo fa Alzare Subito dopo In modo tale Questo in realtà Ha fatto abbastanza In fretta A tutta l'aria Di essere Un teleport Ora Questo sistema Può essere usato Facilmente Per fare Teleport Intrasim Su distanze Che siano All'interno Dei 96 metri Che comunque Sono abbastanza Per esplorare Una struttura Quindi per fare Un ascensore Da piano piano Per andare In un punto diverso Del palazzo Dove c'è l'esposizione Certo non sono sufficienti Per andare Invece In Nell'altra parte Della sim O addirittura Fra una sim E l'altra E lì c'è bisogno Di avere qualcosa D'altro Quindi noi Torniamo Al nostro Inventory Solito Eccolo qua Noi avevamo visto Che Qua avevamo Questi discorsi Qui abbiamo Anche altri Sistemi Per teleportarci Molto Un po' più diretti Per esempio Abbiamo L'LL Volume Detect Allora L'LL Volume Detect Lo vediamo È uno script Che disigna Una specie di superficie Di volume Diciamo In cui Quando ci passiamo Attraverso Vedete Che adesso Io passo Attraverso Questo oggetto E nel momento In cui L'ho attraverso Dovrebbe chiedermi Farmi vedere La distanza Su cui Ah Click To teleport Ok Quindi In un momento In cui l'ho attraversato Lui mi dice Click Per teleportarti Sul punto Tal detali E a questo punto Il punto Tal detali Viene espresso Praticamente Attraverso Una world map Quindi potrei mettere Un punto In qualunque Punto Di second life Per cambiare Questo Questo modo Di fare Basta andare Su L'LL Volume Detect Vediamo un attimo Se abbiamo la possibilità Di specificare Anche l'indirizzo Vedete che possiamo Specificare Di una sim E un indirizzo All'interno Della sim E questo Lui lo esegue Quindi Noi cosa facciamo Clicchiamo Cioè Anzi qui non si tratta Di cliccare Cioè se si clicca Si va con l'indirizzo Sicuramente Ma possiamo Anche Decidere Di passarci Direttamente Ci sono anche Degli script Che permettono Di Adesso Ve lo leggerò Al video Invece di Di Essere offerti La mappa Proprio nel momento In cui si attraversa Quindi magari Vediamo Ok Ok Questo qui è lo script E posso poi Correggere In modo tale Da fare Questo mestiere Farò questa modifica Quindi ve la trovate Già Che magari Quando passate di qua Al momento in cui Ci passa attraverso È già automatico Che vi fa vedere La mappa Andiamo avanti Sull'altra cosa Residua Questa qui L'ho chiamata Teleferica Teleferica È uno script Che permette Invece di muoversi Fra un punto e l'altro Quindi Come funziona Questo script Funziona In sintesi Che quando ci si siede Allora innanzitutto Lo script Vedete che c'ha Tutta una serie di cose Comunque c'ha Uno script Qua L Teleferica Con meno ritorno In cui sono elencate Un certa quantità Di punti Nella sim Dove andare Con un nome E una Coordinata All'interno Nella sim Quindi come facciamo Noi per andare In queste coordinate È semplicemente Sufficiente che noi Cosa facciamo Facciamo Teleport Ci si siede E ci compare Praticamente Una serie di opzioni Allora L'unica opzione Che in questo momento È abilitata È POS1 Per come è fatto Perché è fatta Su questa sim Quindi se io clicco POS1 Vedete che La sedia prende E si va Verso la direzione Che io ho specificato Come POS1 Che sono coordinate All'interno Della sim Quando arriva A disinuzione Mi scarica E vedete Che l'oggetto Torna Di nuovo A casa Quindi questo Io l'ho chiamato Teleferica Nel senso Che appunto Permette Di fare Di movimenti Fra un punto E l'altro Della sim Quindi può Può far andare Anche molto distante Metodi analoghi Possono essere fatti Adesso vedete Che questo Si è mosso A scatti In realtà Si possono fare Dei meccanismi Di spostamento All'interno Delle sim Che vanno In maniera Fluida Su Second Life Funziona molto meglio Sono delle Diciamo Teleferiche Comunque Degli ascensori O dei sistemi Volanti Su OpenSim Funzionano male Perché usano la fisica Oppure adesso Tra qualche mese Probabilmente Sarà disponibile Un sistema Che è molto fluido Che è quello Che usa L'L7 Keyframed Position Quindi Riassumendo Abbiamo visto Una serie di scriptini Che permettono Di aiutare Nella creazione Di musei virtuali Quindi Dallo Script Molto semplice Che Qui avete visto L'ho usato Per sedersi In realtà Possiamo Ed è molto potente Questo script Non soltanto Far semplicemente Sedere Ma associare Un'animazione Quindi Noi qui All'interno Dello script Adesso qui C'è un'animazione Di default Di script Infatti Se io mi siedo Vedete che Mi siedo Alla maniera Di Second Life Che è una maniera Abbastanza Bruttina Già In questo Secondo script Abbiamo messo Un'animazione Un pochino Migliore Che questa Questa qua Animazione Che è già Un'animazione Mobile Quindi vuol dire Che quando ci sediamo C'è un attimo Di movimento Insomma Degli arti E delle cose Comunque Leggermente Più naturale Se al posto Di questa animazione Mettiamo qualunque Altra animazione Viene usata Quindi questo Può essere usato Per far fare Dei mestieri All'interno Di musei Quindi Avere delle animazioni Di suono Per suonare strumenti Animazioni Che fanno Dei mestieri Che fanno Delle attività Anche un sistema Di multi teleport Cioè Nel senso Che era sufficiente Mettere Dei script Di teleport Su degli oggetti Ah è la mappa Eccolo qua Quindi la mappa Eccolo vedete Ecco Questa è una mappa In cui vedete Che abbiamo Selezionato Point 1 E point 2 Quindi ho preso Lo stesso script Di prima Però L'ho Messo in due bottoni Quindi a questo punto Facciamo il reset Di tutti gli script Che ci sono Vedete In modo tale Che si registrano Le coordinate A questo punto Se io clicco Su questa mappa Sul punto 1 Mi sposta Sul punto 1 Se io clicco Sul punto 2 Mi sposta Su un altro punto Che è Definito Nella configurazione Di questo oggetto Nello script Corrispondente Più o meno Questi sono I concetti Che abbiamo visto Adesso Come abbiamo visto Ci sono alcuni elementi Di miglioramento Negli script Che farò E quindi La prossima volta Che passate a Solaris Vi troverete La gabbia Che In pratica Quando ci passate Attraverso Vi fa direttamente L'indicazione Di come andare E ho visto Che in realtà Non è possibile Fare Diversamente Perché quando Attraverso Fare L'LL map Non lo posso fare Perché L'LL map Si vede che Ultimamente L'hanno modificato Funziona solo Al touch Quindi Non è possibile Fare L'LL map Solo attraversando Un oggetto Quindi Semplicemente Lui ti dice Attraversando Clicca Per Per fare Il teleport In generale Comunque Tenete conto Che si può Modificare Questo Oggetto In modo tale Che faccia Lo script In modo tale Che faccia Il teleport Se il teleport È all'interno Della sim Quindi Nel caso Farò anche Una variante In merito Che allegherò E forse Questo è tutto Allora è tutto Per questa volta Ci vediamo Le prossime Puntate Buona serata